È una squadra che deve cominciare a lavorare, ha belle nomine di grande prestigio, di competenza e quindi siamo tutti fiduciosi che si possa andare in continuità con un lavoro già svolto, devo dire molto egregiamente nel passato, dobbiamo chiedere di lanciarlo, diventa un evento regionale, coinvolgerà i siti unischi tutta la regione, poi avrà un grande programma di molti eventi, quindi siamo tutti fiduciosi di una delle tante altre iniziative, e formule di quelle centrali per rilanciare l'immagine anche dal punto di vista, in questo caso culturale, della città e della regione. Bello l'accordo delle istituzioni, regione, provincia e comune, che ti dà un minimo di garanzia, di serenità, di lavoro e non di interferenze politiche, se non invece una grande volontà dell'istituzione di ridare a Napoli quello che Napoli merita, cioè una grande immagine internazionale, se la città ritrova il suo orgoglio di capitale, faremo vedere noi cosa sappiamo fare al mondo.